Cominciamo con scegliere che cosa fare adesso. Direi prima di andare avanti devo buttarci tutte le missioni secondarie. Sia sulla mappa che con le telefoni. 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 Sia la 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 mappa che con le telefoni. Grazie a tutti. 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 a tutti. a tutti. a tutti. tutti. a tutti. tutti. a tutti. tutti. a 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 tutti. Ese che le ho appena comprata le devo abbandonare subito. Questa è un'altra cosa. un po' Grazie a tutti. Grazie a tutti. E' andato. Perché non mi fa vedere dov'è? No, it dies. E' andato. 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 E'. E' andato. Sì Tram, cercate di qualcosa in particolare? Ho bisogno di un carattere sport Devo chiedere il cliente le specifiche e io l'ho messo Prendiamo Un veicolo E andiamoci a prendere Ciao No C'è un po' C'è un po' C'è un po' Un po' Un po' Un po' C'è un po' C'è un po' C'è qua... Taxi... C'è chiama Taxi... E ugye... C哇... Iitav động Non c'è una cura, non c'è tutta la macchina che ci sono. High price class, low price price. Possessim, 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 possessim. C'è foda. C'è un taxi. Aspetta. Llega l'autodeletriati. C'è un po' le basque. Vale. Oh, ma decidetevi, poco fa non ce n'era neanche una. C'è l'acqua adesso. Poco fa non ce n'era neanche una, adesso me ne stanno arrivando addosso 3000 taxi. Eh dai. Preparazione. Via di qua. Via di qua. Vira di qua. Che si passa qua? Piazza. C***i, lei è veramente gentile. Lo, loці. Siamarmi! oh oh Grazie a tutti Grazie Jeepers Creepers Jeepers Creepers Eh come è il nome di quel film Non ricordo male Non so se ce la rubano un'altra Ora queste emissioni si sono infinite Ma cavolo è sta tono? Senta la mappa ancora non si è aggiornata Ecco va lì Si è aggiornata soltanto adesso Ma non la fa vedere dove è la mappa Vabbè io cercavo altrove guarda dove è Buongiorno 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 Subito Buongiorno Buongiorno Sochi Buongiorno Sì, non è vero, non è vero. va bene ragazzi perché mi sto accorgendo che la trasmissione va veramente male cerco di risolvere alla prossima grazie